cari amici sono Pai adesso mi trovo al monastero millenario Shaolin Si luogo di nascita delle arti marziali di Shaolin Shaolin Kung Fu ma a proposito sapete come si dice in cinese arti marziali in cinese si dice Wu Shu Wu terzo dono e Shu quarto dono insieme Wu Shu arti marziali seguite il mio programma perché prossimamente ci sarà uno speciale dedicato proprio al monastero Shaolin e alle sue arti marziali non mancate